I carabinieri di Napoli hanno fermato un componente del comando che lo scorso 21 settembre uccise nei quartieri spagnoli di Napoli Vincenzo Masiello. Si tratta del 19enne Gennaro Enrico, ritenuto fiancheggiatore del clan Ricci e accusato di concorso in omicidio e violazione della legge sulle armi. Con Enrico sono cinque killer in carcere, manca all'appello l'ultimo componente della banda, un minorenne, ricercato da polizia e carabinieri. All'omicidio di Masiello, maturato nell'ambito dei contrasti tra clan napoletani, dei Mariano e dei Ricci, presero parte complessivamente sei persone. Masiello fosse assegnato da una banda di sicari a bordo di tre motorini, che lo raggiunse e lo freddò mentre era in strada. Gennaro Enrico era riuscito a sfuggire all'arresto lo scorso 22 novembre, ma nel corso dei servizi di osservazione e peditamento di tre e dei suoi amici, che i militari avevano organizzato per la cattura, è stato individuato questa mattina nel quartiere Ponticelli in via Chiaro di Luna, mentre da solo percorriva la strada a piedi. Quando si è accorto di essere stato individuato, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Con gli amici Giulia Bagnara, incensurato Antonio Mozzillo e Ghetano Lauria, questi ultimi due già noti alle forze dell'ordine, aveva contatti quotidiani anche attraverso un noto social network. A Bagnara, Mozzillo e Lauria sono stati arrestati con l'accusa di favoreggiamento. Enrico è stato chiuso nell'istituto benitenziario di Secondigliano, i suoi amici invece sono finiti nel carcere di Poggio Reale.